Aggiornamento Crash di Google Planetario, un disservizio che abbiamo sperimentato stamattina all'incirca dalle 12.40 alle 13.20 e il cui racconto ci arriva anche dalle colonne del New York Times. Adam Satariano, infatti corrispondente tecnologico del Times, fa un po' la conta dei danni e ci racconta quali sono i servizi di Google coinvolti. Si parla di Calendar, Gmail, Hangouts, Maps, Meet e YouTube, mentre gli utenti inferociti si riversavano sui social per reclamare il ripristino del servizio. Ancora il giornalista del Times ci spiega che Google ha finanziato privatamente cavi sottomarini per spostare i dati tra i continenti e migliorare le prestazioni nel caso in cui si verifichino problemi in un determinato luogo. L'affidabilità dei sistemi è diventata chiaramente sempre più importante poiché le persone e le aziende dipendono dai servizi, sia che si tratti di cercare informazioni online, sia che si tratti di trovare indicazioni stradali, inviare mail o reperire documenti sulle piattaforme di Google. Un disservizio che oggi non poteva non riguardare anche la scuola. Praticamente in tutto il mondo i ragazzi sono indatti in questo momento, in Italia in particolar modo le scuole superiori. Dunque ci sono arrivate oggi dai nostri lettori, da docenti e da studenti i racconti di questa mezz'ora un po' così surreale in cui le piattaforme di didattica a distanza dei ragazzi sono state inondate anche da messaggi volgari degli hacker. Quindi un fenomeno che ci ha dimostrato come siamo realmente tutti connessi all'interno di un villaggio globale, per dirla alla Marshall McLuhan. Ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti e seguite tecnicadellascuola.it per ogni approfondimento.